In linea con i dati che parlano di un turismo a Chieti cresciuto considerevolmente in quest'estate 2022, continuano a scegliere la città e l'Abruzzo come meta di vacanza anche i turisti italiani. Grande interesse per le testimonianze religiose, artistiche e storiche. E' appena giunto a Chieti un gruppo di brianzoli, come mai avete scelto di venire qui in vacanza? Beh ogni anno scegliamo di una destinazione, quest'anno abbiamo scelto l'Abruzzo, non solo per le bellezze naturalistiche ma anche le bellezze artistiche e soprattutto perché avendo anche così ripercorso alcuni luoghi di miracoli eucaristici e anche quindi Lanciano e Manopello sono un punto di riferimento per noi e quindi anche vedere la ricostruzione dell'Aquila e tante altre cose belle e importanti di questa regione. Qui a Chieti in particolare cosa avete già visto? Qui a Chieti abbiamo visto la cattedrale, abbiamo visto il teatro e ora la guida ci condurrà a vedere le altre cose belle e la cripta certo della cattedrale. Quindi vediamo un po' quello che Chieti ci offre e già quello che abbiamo visto è spettacolare, bello e quindi interessante. Signora Emilietta lei da dove viene? Brianza. Dove precisamente? Briosco Brianza. Come le è sembrata Chieti? È abbastanza molto bella, affascinante perché si ricorda un attimino un po' la nostra storia dell'invasore, di questo e di quell'altro, mi ha ricordato la storia ecco diciamo. Domani dove si va? Non mi ricordo perché ho un po' manopello glielo suggerisco io. Va bene manopello. Va bene.